L'intelligenza artificiale è già nelle nostre vite e sta già portando in concreto ogni giorno dei valori aggiunti importanti per tutti quanti noi, dall'aiuto quando scriviamo un'email fino alla possibilità di prenotare agevolmente servizi online, fino alle traduzioni istantanee insomma ci sono tutta una serie di benefici nella vita quotidiana di noi come persone già molto importanti allo stesso modo ci sono una serie di benefici per le aziende altrettanto importanti che possono sfruttare appieno valendosi tutta una serie di strumenti disponibili anche in open source in maniera gratuita, noi per esempio a seconda della dimensione dell'azienda mettiamo a disposizione strumenti come market finder oppure tensor flow sempre liberamente fruibili e utilizzabili per l'azienda che voglia avere un po' uno scenario rispettivamente in caso di market finder di quelli che possono essere le migliori opportunità di internazionalizzazione oppure nel caso di tensor flow per andare a ben definire le opportunità per la propria catena del valore ecco l'opportunità che sono quelle dell'intelligenza artificiale sono molteplici ed è fondamentale come peraltro è emerso anche nell'evento di oggi, metterle insieme a una riflessione assolutamente consapevole e attenta ai possibili rischi ma penso che attraverso una visione che sia da una parte improntata all'investimento, alla valorizzazione di queste opportunità e dall'altra appunto consapevole della necessità di riflettere sia in ambito pubblico che in ambito privato sulle regole, sui principi da seguire poi nelle applicazioni delle AI si possano sfruttare a pieno quelle che sono le opportunità. La protezione dei personali è centrale in ambito europeo, è un diritto fondamentale dell'individuo, il GDPR ha portato certamente un contributo molto importante che viene ripreso a livello internazionale e in particolare ha portato all'attenzione due profili su cui a Google stiamo lavorando da anni in effetti che sono quello della informazione e trasparenza da un lato e dall'altro il principio della portabilità dei dati. Sull'informazione e trasparenza abbiamo lavorato anche su spinta del GDPR come stavamo facendo da anni per rendere ancora più evidenti, ancora più chiari gli strumenti che mettiamo a disposizione oggi racchiusi in un'unica interfaccia che si chiama Google Account per andare a controllare e a vedere quali sono i dati personali che si stanno condividendo con Google e gestire le proprie impostazioni di privacy. Dall'altra parte il tema della portabilità dei dati su cui come accennavo lavoriamo da diversi anni è fondamentale perché l'utente deve essere libero di poter scegliere i servizi migliori e quando ritiene portare i propri dati da un'altra parte. Su questo stiamo lavorando anche per rendere più agevole adesso la portabilità con altre grandi piattaforme con un progetto che si chiama Data Transfer Project per agevolare appunto il trasferimento dei dati da una piattaforma all'altra in maniera diretta senza dover scaricare e poi ricaricare i dati sulla nuova piattaforma. Quindi strumenti operativi che mettano le persone in controllo. Insieme a questi l'elemento fondamentale di cui abbiamo discusso anche oggi è la sensibilizzazione perché questi strumenti nel nostro caso ci sono, Google è molto attento alla gestione dei dati e a dare agli utenti, alle persone tutti gli strumenti per gestire i propri dati. È importante che questi strumenti vengano utilizzati e ci sia una piena consapevolezza di quanto fare attenzione ai propri dati personali e a come vengono condivisi e gestiti è assolutamente importante in uno scenario sempre più globalizzato senza demonizzare, essendo consapevoli del fatto che i dati consentono la fruizione di tutta una serie di servizi online che hanno cambiato le nostre vite ma allo stesso tempo essendo consapevoli appunto dell'importanza che hanno.